Allora, il gruppo, siamo già veniti. A posto? A un minuto o meno? Video. Foto e video. Foto e video. Il gruppo, in questo momento, ha inviato questa serie di stampe che si riferiscono ai paesaggi di Novara. L'autore si chiama Paolo Marletta e questa è dedicata alla città di Hamilton. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie. Il gruppo, in questo momento, ha portato le batterie.